Allora, come ti è sembrata la gara, il crono un po' più di un decimo sopra, il tempo per la staffetta, potresti rientrarci per dove? Io spero, diciamo che Thomas secondo me avrà tante gare, come secondo dorsista nel centro stagionale ci sono io, spero che lui avendo tante gare il CT possa pensare che possa aiutare nelle metà di staffetta almeno al mattino, ci spero, chiaramente ho solo che piacere ad andare a Tokyo, quindi non posso dire altro che speriamo, la speranza è lui a morire.